Un minuto compadre Pio, nei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel chiostro. Questo è un luogo dove i pellegrini, i fedeli, non possono accedere. Ci troviamo all'interno, accanto alla foresteria, all'interno del convento e qui oggi per raccontarvi quello che accadde in un altro chiostro, a Venafro. Siamo in provincia di Isernia, in Molise, uno degli undici conventi dove padre Pio ha dimorato, nel 1911. Padre Pio si trovava in questo convento già dall'ottobre del 1911. Il celebre dottor Antonio Cardarelli durante questa visita a Napoli disse a padre Benedetto portatelo nel più vicino convento. Questo ragazzo entro un mese, questo giovane frate, entro un mese non ce la farà. L'occhio clinico di Cardarelli in quel momento sbagliò perché questa era una misteriosa malattia, permessa dal Signore. Cosa accadde a Venafro? È trascorso quel mese che Cardarelli indicava come morte certa per padre Pio. Siamo verso il 16-17 novembre del 1911. Padre Serafino Tariccia racconta che mentre cucinava qui a San Giovanni Rotondo incontrò padre Evangelista che all'epoca era il guardiano del convento di Venafro e che vuole raccontare ai loro confratelli quello che accadde in quel periodo. Quindi siamo nel novembre del 1911. Lui era insieme a padre Pio e dopo i primi giorni in cui stava bene volle di nuovo farlo visitare a Napoli da un medico speciale. Racconta per una visita perché si sentiva troppo male. In quel momento era accaduto di nuovo in questa misteriosa strana malattiva. Passata la visita si fece tardi, andarono a dormire in un albergo, quindi siamo sempre a Napoli, e presero una camera con due letti, si misero a dormire. Ad un certo punto cominciarono dei rumori forti e durarono parecchio tempo, racconta padre Evangelista. Intanto né lui sapeva spiegare né tantomeno parlare. Dopo tanto tempo questi cessarono e tornò nuovamente la calma. Subito padre Pio domandò, padre guardiano, padre Evangelista, avete sentito qualcosa? Avete avuto paura? E così poi si riaddormentarono e riposarono fino al mattino, lieti e felici. Dopo questo lieto riposo si alzarono di nuovo felici, contenti, tranquilli, così come racconta fra Serafino dalle parole di padre Evangelista, da Napoli andarono a Pompei a visitare la Madonna. E così celebrarono le sante messe, racconta fra Serafino, l'uno servì all'altro e dopo si fermarono in chiesa a fare il ringraziamento al Signore. Poi visitarono le opere del santuario e così si arrivò verso le due. Il padre guardiano, sapendo che padre Pio mangiava poco e che quel poco lo rimetteva, non si curava quindi del pranzo, mentre padre Pio pensò e disse padre guardiano andiamo a mangiare qualche cosa. E subito padre Evangelista disse, ma che devi mangiare davanti a questa gente, tu poi rimetti tutto, che figura facciamo? No, disse padre Pio, state tranquillo padre, vedrai che non succede niente, perché chiaramente padre Pio si preoccupava di padre Evangelista che doveva mangiare insomma. E così andarono al ristorante ad un pian terreno vicino alla finestra che sporgeva in giardino e così mangiarono un primo e un secondo e poi si trattennero un altro po'. E mentre stavano così a quel punto padre Evangelista vide che padre Pio si affacciò alla finestra, fingeva di prendere un po' d'aria e col suo bastoncino, infatti questo è un particolare che emerge da questo racconto di fra Serafino da Riccia, che padre Pio portava con sé un piccolo bastone, forse per tenersi, dato che questa sua misteriosa malattia non lo faceva nemmeno stare neanche in piedi. Allora con quel suo piccolo bastoncino, racconta, che portava con sé, fece un piccolo buco nell'aiuola, come facevano i gatti, racconta fra Serafino, e poi lì ha rimesso tutto quello che ha mangiato, lo coprì tutto per bene, senza che nessuno se ne accorgesse. Ma padre Evangelista aveva visto tutto, il padre guardiano riconobbe così la grande santità di padre Pio e poi da lì quel giorno se ne ritornarono di nuovo avvenato.